E' qui con noi il nostro amico Luigi. Dov'è, 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 dov'è? Mister Crociera, ti chiamo Luigi questa sera, non so perché mi viene da chiamarti Luigi, c'hai la faccia da Luigi questa sera. No, 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 mi dispiace, noi che siamo. Cosa c'è? Cosa brontoli? No, perché ho incatigliato qua, qua, a corda. Come tutti i maschietti sei un gran brontolone, mi sembra. No, perché, eccomi qua. No, allora vedo che continuo a parte di te, ma vedo che continuo ad essere contenti della gente. Però adesso, vieni qua un attimo. Non abbiamo la mascherina, stai un metro per piacere. Io ne godo tre qua. Va bene che con la pancia tua sono due metri, però. Guarda quanti che ne godo. No, allora, glielo dite che sta Antonella, ha un fisico invidiabile, non so vero. Guarda che fisico. Abbiamo lo stesso profilo, uguale, uguale. Questo se è fisico, no, queo? Eh, hai ragione, hai ragione. Eh, cara mia, qua, ha fatto fatica a fare questa roba qua, eh. Che non ti creda. Dai che ti conto, uno è veloce, veloce. Allora, due fratelli, anzi tre, uno vive a Milano, e che altro, che altri due vive qui in campagna, vado tre campetti di terra, la vacchetta, il Stai, il Porseo, tutta che roba là, noi c'è contadini, diciamo. Uno se è normale come me. Non sta a ridere. Guarda che a ridere. E uno se è un pochetto indirietto, fa fatica a capire, praticamente, che manca un buio, io capisco? Come me. Come me? No, come me. No, ti non ti manca un buio, ti dico nè uno in più, dai. Ha molto buio, ha detto, ha detto, la buona gallina padovana, diciamo. Lo sapevo. Allora, quello che dice un pochetto indirietto è che dice a suo fratello, c'è Antonio che va a telefonare a mio fratello da Milano, e mi ha detto che va a cattarlo, perché c'è tanto che non lo vedo. Ma no, ha detto, tu hai dovuto andare a Milano, non ti perdono, non ti cattiamo. No, no, ha detto, non state preoccupate. Ha detto, mi porto in stazione, arrivo a Milano e il mio fratello viene a Milano centrale. Va bene, va bene, ciò può fare il biglietto, porta a Padova e il primo treno che passa per andare a Milano lo carica su. Guarda, ha detto, mi raccomando, non stai a smontare prima di arrivare a Mian. Quando si arriva a Milano centrale, ti aspetti e arriva il nostro fratello. Va bene, va bene, mi dice, mi è, mi è. E ora il mondo arriva a Vicenza, biglietto, prego, biglietto, e ora arriva il controllore. Ecco qua a capo, ha detto. E noi, quando siamo mia, caro, che hai detto, ti, qua, ti hai sbagliato, tu vai, no, che hai detto, mi è fratello, mi hai dato il biglietto. Ti, qua, non ti puoi stare, perché questa è prima classe, ti ti hai un biglietto di seconda classe, prima che ti monti in seconda. Va più avanti, se no, va che ti metto la multa. Va bene, va più avanti. Arriva a Verona, arriva ancora il bigliettaro, biglietto, che dà il solito biglietto. Ma ora non sei che io, capisco, eh. Qua siamo ancora in prima, ti ti metto a montare in seconda. Ha detto, capisco o no? Va bene, va bene, va avanti. Il vagone è letto, il vede tutto scuro, il va dentro. E poi non è mercato a mia, ha detto, vediamo se è mercato. E là che se, un uomo è la femmina, marito e moglie, amante, non so chi sia, dice là che dà il solito brutto. Mamma mia, se puoi dirlo, sì, il solito brutto. Sì, stanno leggendo un libro assieme. Ora è l'uomo che fa, va fuori da qua, non vuoi, va fuori, va fuori. No, no, il tasso, il capo, il tasso, mi ha fatto, va fuori, cosa ha avuto. E mi dica, questa sia prima o la seconda? Ma che c***o ne frega se sia prima o la seconda? No, perché il controllore mi ha detto che se sia seconda posso montare anche a me? Lorenzo Carnin, grande. Oltre che ricorda il nome, brava. Lo so che ti chiami Lorenzo, ma ogni tanto ti cambio il nome, voglio vedere se sei preparato. Se ti ricordi, come ti chiami? No, non mi ricordo neanche quando che compi Anime, moglie. Appunto, appunto. Facci solo ricordare una cosa, quando hai vinto la SAI, l'ultima a Canale 5. A ieri ho tosatevo ancora. Una vita fa. Venti anni fa. Venti anni fa ha vinto la SAI, l'ultima, Lorenzo Carnin. Nel 2000, nel 2000. Nel 2000. E che gli erano ancora a Sabani, poi ha detto che l'è anche morto. Vabbè, anni in pace dell'anima sua. Dopo sono stato nel 2005 a la corrida. Anche la corrida è partecipata. Qua tromba, perché mi trombo? No. No, una volta forse. Per piacere. Ci vediamo dopo Lorenzo. Solo a tromba. Ah, ok, ok. Ci vediamo dopo, Lorenzo Carnin. Grazie, metto via un'altra dopo, dai. Preparala per dopo, Lorenzo. Divertitevi, eh.